Hai problemi con la DSL? La linea fissa è un prezzo che non vuoi pagare. Finalmente arriva Linkem e puoi navigare senza limiti. Linkem ti porta internet veloce senza bisogno della linea fissa. E senza problemi pensano a tutti i tecnici Linkem. Capisci amore? Ci pensano loro. Ok, ora siete connessi e liberi della linea fissa. Capisci amore? Siamo connessi. Linkem. Internet Revolution.